Ci sei? Sì. Scopriamo che cosa so fare. Era l'auto di tuo padre. Luca, sei d'accordo? Ora è mia quanto suona. Oggi i drill fillers daranno il passo. Dobbiamo fare lo stesso. Siamo qui per questo. Ricorda. Andiamoci dentro e la link dovrà considerarci. Facile. Ti copro le spalle. Tu copri me. Che bello il rumbo di questo motore. Grazie. Quest'auto è tanta roba. Devi farne di strada. Ehi, non indovinerai mai che ho incontrato qui dietro? Rallenta, ti faccio vedere. Guida la carovana. Farò quel che posso da qui. E' in corso a Edgewood Valley, direzione est, verso il circuito. Va bene. Qui show, ci penso io, centrale. Ricevuto, vi dirigo verso Edgewood Valley. Ok, centrale. Rispondiamo. Pare che avremo compagnia. Tu nella camaro gialla. Accosta. Di nuovo questo idiota. Ehi, io ti conosco. Ti fermi tu oppure ci devo pensare io? Devo tagliare e attraversare la pista. Che mi dici della corsa? E' finita. Questo spirro non si scolla. Puoi aiutarmi? Certo. Siamo una crew. Niente. La gara è annullata. Via tutti. Forse non mi hai sentito. Accosta. Attenzione. Accosta. Mi andrò piano. Non posso rimanere di nuovo a piedi. Non è un'auto adatta a questo. Non è un'auto adatta a questo. L'altra volta abbiamo... Non so a quanto possa resistere. Io allungo la tiri. Vecchio si mette per me. Quest'auto inizia ad essere vecchia. Stai iniziando a seccarmi. Il suo portabagagli perde. La risolviamo alla stazione di polizia, ok? Devi togliere di mezzo questo tizio. Questo tizio non si arrende. Prometto di trattare la tua auto con i guardi. Sento puzza di fumo. Un aiuto? Provaci di nuovo e ti faccio fuori. No! Torna qui tu! Voglio vedere come fa a cavarsela. Grazie. Mi hai salvato il culo. A tutte le unità. L'agente Shaw è fermo. Ha bisogno di aiuto. Attenzione a una camaro gialla. Ecco il segnale. Devo tornare al garage. Vediamoci lì appena poi. A tutte le unità. Com flawedtti. Inилиi punti. Guarda. Qu own! Succombandi. Glorzare potentiè. Grazie a tutti. 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 Fa un po' fatica con le marce basse, ma appena prende giri... Wow! È una vera bestia. Sei incazzato. Dici? Mira, esto! Mi dispiace, avrei dovuto dirtelo, ma... Certo che dovevi, cazzo! Tu non avevi il diritto di farlo. Capito? Io vado. No. E era anche mio padre, lo sai? E ti ricordo che... L'avevo costruita per correre. Lo chiami correre? È quello sbirro che ha rovinato tutto. Anna, con quello che stai facendo arriverà sempre uno sbirro! Hai deciso di rovinarti la vita, per caso? Cerco di farci qualcosa con la mia vita. E mi sembra di cavarmela bene. Bene. Questo è bene. Sembra che a guidarla sia stato uno sbarbatello qualunque che non ha mai corso in vita sua. Ma che gentile. Io non ho bisogno di ascoltare un fallito troppo spaventato per guidare. Siamo piloti! Quando te ne ricordi, chiamami. Ora so come si sentiva papà. Vuoi una mano? Certo. Anche due se le hai. Servono ricambi. Ah, cavoli. La camara di papà ha ancora qualche problema. Fammi un fischio quando avrai quella griglia. La camara di papà ha ancora qualche problema. C'è un posto sulla costa. Lì si fanno soldi a palate vendendo ricambi rari.